Paolo Marinucci, si è pentito di non aver partecipato alle primarie di coalizione? No, sono felicissimo di non averci partecipato. Perché? Perché così sono libero di esprimere insieme a tutta la coalizione che mi sostiene un'alternativa per termine. Così però il centro-sinistra ancora una volta è diviso. E non crede che rinunciando a fare un passo indietro, come le hanno anche chiesto, in qualche modo ci sia il rischio di consegnare di nuovo la città nelle mani del centro-destra? Allora, penso di no perché il centro-sinistra, come ho già detto, sta qui. Il vero centro-sinistra è qui e sostiene la mia candidatura. E in realtà dall'altra parte c'è solo centro-destra. Quindi chi vuole votare centro-sinistra non può anche votare meno. Dall'altra parte intende la coalizione di Angelo Sbrocca? Sì, una coalizione che è sostenuta da ex amministratori dell'Aggiunta di Primo e che non vede la sinistra rappresentata né dai partiti, se vogliamo chiamarli un po' più radicali, come Saello o Rifondazione Comunista Italiana, ma in realtà non vede nemmeno nel PD l'area, diciamo, quella più di sinistra legata a Cooper, Locivati, e quindi è l'area più di sinistra. Quindi di fatto è un grande centro, l'espressione di Angelo Sbrocca. Quanto costa una cassa di acqua minerale? Dipende, 1,40 euro fino a 1,02 euro, insomma dipende da quello che si vuole comprare. Bene, risposta giusta. Lei parla spesso della sua esperienza nel sociale e anche nel volontariato, ma a Termoli, dica la verità, esiste la solidarietà oppure ognuno cura il proprio orticello? Secondo me c'è tanta solidarietà a Termoli, così come in tutta la nostra regione e nazione. Lo abbiamo visto, per esempio, quando ci sono state poi delle problematiche forti, come per esempio il terremoto di San Giuliano, che in realtà ha visto vicini e prossimi tutti i comuni, anche quelli che magari hanno avuto dei problemi comunque meno gravi, essere vicini alle persone più bisognose in quel periodo. Ma lo vediamo, l'abbiamo visto anche quando c'è stato il problema dell'Aquila, che ci ha visto vicino ai fratelli e bruzzesi, e in tantissime altre situazioni. Quindi secondo me c'è tanta solidarietà, solo che spesso queste cose non vengono viste. Intorno a lei ci sono esponenti di Rifondazione Comunista, esponenti di SEL, ma ci sono anche cattolici, o almeno una parte del mondo cattolico. Lei crede davvero di essere un punto di riferimento della vera sinistra e questo come si concilia in questo territorio con il mondo cattolico? Io penso sì di essere comunque riferimento di una sinistra nuova, moderna, di una sinistra europea, di una sinistra che vuole governare e che non ha paura di governare. Non ho paura di... non ho mai messo a confronto il cattolicissimo con la sinistra, cioè non penso che un uomo di sinistra non possa essere cattolico, che un cattolico non possa essere un uomo di sinistra. Anzi, a me piace dire che penso che Gesù Cristo era di sinistra, perché comunque era una persona che guardava alle persone più deboli, a fasce deboli, e che si è stato crocifisso per salvare il mondo, quindi ha messo la sua vita a disposizione di un progetto di bene comune e di salvezza. Quindi io non vedo come la sinistra, che comunque professa da quando è nata, la vicinanza al bene comune, le persone, una solidarietà, un'unione di popolo, come non possa essere coniugato con il cattolicese. Meglio Bellarò, Piazza Pulita, servizio pubblico o porta a porta? Servizio pubblico all'inizio mi piaceva tanto, poi negli ultimi tempi ho partecipato anche all'idea di finanziare questa nuova testata del format. Poi forse col tempo probabilmente, ma forse è stato anche un mio problema, l'ho perso un po' le viste. L'ideologia cosiddetta dura e pura, più inflessibile, secondo lei è un concetto superato oggi in politica? Io penso di no, penso che quando si parla di coerenza e di dignità, soprattutto in questo periodo storico, c'è bisogno di tenere il timone dritto, la barra dritta, perché la gente ha bisogno di sapere chi vuole amministrare, amministrare, chi vuole andare a governare, da chi essere governato, e quindi ha bisogno di certezza e chiarezza. Quindi l'essere duro e puro è ovvio che non deve essere un limite, perché non significa dittatura, non si può decidere da soli, ma insieme essere duro e puro nel senso di fare le cose con coerenza e con chiarezza. Quali sono gli ingredienti del broletto di pesce? Allora, qui ci sono varie sfaccettature. Allora, di sicuro il pomodoro fresco, ci vuole l'aglio, qualcuno ci mette un po' di acqua, ci lascia un po' di acqua di mare, oppure non bisogna sciacquare il pesce con l'acqua dolce, quindi mettere il pesce, diciamo, lavato a mare. E poi prima si mettono i seppioline, tutta la parte, diciamo, del pesce più morbido, diciamo, quindi seppie, totani, calamari, e qualcuno ci mette anche, ma a me non piace, le cozze, l'ongola, e poi il pesce più duro, quindi dai melluzzi fino a finire a scorfani, triglie e tutto il resto. Molto preciso. Tutti scommettono che si andrà al ballottaggio con cinque candidati, è un'ipotesi plausibile. Lei è disponibile agli apparentamenti? E c'è qualcuno che proprio non vuole come amico? E in questo caso chi? Di sicuro gli apparentamenti, allora di sicuro si andrà a ballottaggio, penso, per come sono messe le cose. Di sicuro quello che non voglio come amico, nel senso di ballottaggio, è il marrone, perché ovviamente è fuori completamente dall'idea di un apparentamento. Però sinceramente al momento non so se è possibile un apparentamento. Lo dico veramente con... Con chiunque dice. Sì, cioè al momento non lo so, e veramente dipende molto da come andranno i risultati delle urne. E c'è qualcuno tra i suoi competitor che sente un po' più affine a lei, alle sue idee? Ma c'è il Movimento 5 Stelle che sinceramente abbiamo molte cose in comune, veramente tante. Anzi io a certe volte dico forse sono anche un po' più spinto di loro su molte cose e che ho portato anche in dotile o una, quindi c'è una buona affinità. Grazie. L'ultima cosa, sappiamo che lei canta o canticchia? Sotto la doccia. E che conosce anche bene il termolese, quindi che abbiamo portato il testo di una famosa canzone in dialetto termolese e le chiederemo di cimentarsi un po' con... Ok, faccio un parte ritornello, qualche strofa. Allora, un battelluccio. Anno da me che te voglio appuntare, ti voglio appuntare una spingola d'or. Anno da me che te voglio appuntare, ti voglio appuntare una spingola d'or. Te voglio appuntare, che sei tanto lontana, vicino al confine dell'amore. Te aspetta a braccia aperta, dinta stu batte luce, vicino a stu corrucce. Te voglio appuntare, che sei tanto lontana, vicino a stu corrucce. Te voglio appuntare, che sei tanto lontana, vicino a stu corrucce. Voglio appuntare, che sei tanto lontana, vicino a stu corrucce. Grazie.